Nella mia vita sono stata stimolata da molte persone ma soltanto da un tipo di automobile. Una volta Fangio mi disse che guidavo a una velocità troppo alta e quindi correndo troppi rischi, ma a quei tempi e in quell'autovettura mi sentivo assolutamente impavida. Per me la sensazione provata guidando una Maserati è stata una delle fonti più costanti di piacere nella mia vita e non ho dubbi che lo sarà anche per te. Sono veramente felice di aver passato la miglior parte della mia vita in gara e alla guida di quelle che per me sono le migliori vetture mai create. Ora ho 88 anni e sono abbastanza vecchia per ammettere che invidio la strada che si è appena aperta davanti a te. Credi a qualcuno che lo sa, i più fantastici chilometri sono tutti davanti a te.